Un uomo di 57 anni è rimasto incastrato sotto il traduttore a Traversare di Bagnacavallo nel pomeriggio di martedì. L'incidente è avvenuto intorno alle 15. L'uomo stava lavorando in un appezzamento agricolo quando, nel fare manovra col mezzo, è precipitato nel fosso che separa la proprietà dalla strada via Traversara. Dopo la richiesta di soccorso, in via Traversara sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per liberare il ferito è stato necessario un intervento dell'autogrua e chiudere alla circolazione l'intera strada. Dopo essere stato liberato, il 57enne ha ricevuto le prime cure del personale sanitario. Una volta stabilizzate le condizioni, l'uomo è stato trasportato a bordo dell'eliambulanza di Romagna Soccorso, decollata alla volta dell'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle indagini dei carabinieri di Traversara. Sul luogo dell'accaduto ha anche la polizia locale della Bassa Romagna e la medicina del lavoro.